ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video nello scorso vi avevo detto che avrei realizzato questo video dove appunto vi mostravo l'accensione di questa bellissima vespa pk 50xl ok non perdiamoci in chiacchiere andiamo subito a vedere come si accende allora a differenza della mia special che ha esattamente nove anni di meno non ha la chiave quindi questa come vedete alla forcella bloccata quindi andiamo a girare la chiave e la mettiamo su on facendogli fare due scatti poi giriamo la levetta del rubinetto della benzina tiriamo l'aria ok e siamo pronti diamo con il piede un bel colpo sulla pedalina un colpo secco altrimenti non parte dando leggermente gas con la mano ecco qua 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 per spegnerla non ha il tastino sulla polsantiera come la special ma va girata la chiave quindi rispetto a prima gli facciamo fare uno scatto indietro portandola su off tutto qua semplice semplice come avevo detto a una rottura qua sul manubrio ma non serve cambiare il manubrio intero ma si cambia soltanto questo cupolino qua dal costo di soli 13 euro va bene ragazzi con questo è tutto la vespa l'avete sentita accesa purtroppo o domani o dopo dovrebbero venire a vederla e forse comprarla iscrivetevi al canale qualora ancora non lo foste perché fra poco vi aspetteranno e mi aspetteranno tante novità sempre del mondo delle auto e delle due ruote a presto ciao a tutti